E' meglio che la sciampare, la domanda di riserva. Ecco, vedo che è già venuta com'è. Non ti metti lì, non ti metti la roba seria. Oggi abbiamo subito il campo, non l'abbiamo domato e quindi andiamo a casa contenti. Ottima organizzazione. La gara ho giocato bene le prime nove, le seconde nove potevo andare meglio. Quindi alla fine ho fatto meno uno, ma potete giocare molto tutto. Siamo divertiti, abbiamo giocato bene. Abbiamo prestato l'ospitalità dello sponsor, della Eric Cotton. E ci siamo divertiti con un buon ruolo, amici. E' una giornata che è splendida. Esatto, è una splendida giornata di fine estate. Abbiamo prestato molto i regalini, il cotillon e l'organizzazione Eric Cotton. Per cui penso che torneremo. Bellissimo campo, in ottime condizioni. Meritava che giocassimo meglio, ma non si può avere tutto. Ci siamo divertiti comunque, grazie. Un console meraviglioso, mai visti i premi così belli negli ultimi tre anni. Perché vuoi fare meglio le brutte parole, che non ci conosciamo sempre? Per giocare no. Cos'altro? Se c'è dell'altro... Si poteva fare meglio, dai. Si poteva fare molto meglio. Molto, molto meglio. Però... Vabbè. Si è divertiti, lo stesso. Non mi sono neanche divertiti. No. Non mi sono abbiato. Fai conto che sia Telesfogo. Telesfogo, bello, mi piace. Telesfogo è tanta roba. No, vabbè, ora, ragazzi, cosa posso dire? Ho giocato da schifo. Ma più o meno da quando ho preso l'endica, sempre. Quindi, prima o poi diventerò Tiger Woods o qualcuno simile. Basterà che, invece che fare tutti X, ci metta qualche punto sullo score. Per ora mi diverto, compagnia perfetta. Volevo giocare con un mio caro amico. Ce l'ho fatta, quindi giornata meravigliosa. Grazie dei gadget, perché comunque raramente si trovano gare sponsorizzate così bene.